Amici, il talent show di Canale 5 non andrà in onda. Lo ha annunciato la conduttrice della trasmissione, Maria De Filippi. I telespettatori sono in allarme, Amici 2024 non andrà in onda il prossimo sabato. Le motivazioni sono importanti e prese dai vertici dell'azienda per ragioni importantissime. La decisione è giunta in seguito ad un vaglio attento e puntuale degli amministratori, i quali hanno optato per una scelta che di certo non avrà fatto gioire tutti, ma che era indispensabile e necessaria date le circostanze. Un atto dunque dovuto in ragione di quanto sta per accadere. Anche la timoniera dello show, Maria De Filippi ha dato il suo assenso. La programmazione ordinaria di Canale 5 ha subito una modifica, lasciando attoniti i fan del programma che speravano di poter assistere al preludio della finalissima. La tensione è alle stelle, i ragazzi stanno dando il massimo per dimostrare ai telespettatori di meritare la vittoria. Tra sfide adrenaliniche e performance da urlo, gli allievi della scuola più ambita di Canale 5 stanno intrattenendo i telespettatori con enfasi ed entusiasmo. I fan sono al loro fianco, platonicamente, li sostengono, li supportano, li esortano a dare il meglio. Amici, non andrà in onda sabato, la semifinale salta, i motivi. Proprio per questo i supporter stanno vivendo delle emozioni molto forti in vista della semifinale e, sono rimasti di stucco quando hanno appreso la notizia. Come poc'anzi accennato infatti il talent non andrà in onda, i vertici del biscione hanno deciso di posticipare l'appuntamento con il programma più amato della televisione. L'azienda ha deciso di dare spazio alla fase finale dell'Eurovision Song Contest 2024, in gara c'è anche l'Italia e, a rappresentarla e Angelina Mango. Per questo motivo i vertici dell'azienda hanno pensato di posticipare la messa in onda della puntata anche in omaggio all'ex allieva e vincitrice di Sanremo, Angelina. La semifinale verrà trasmessa domenica 12 maggio invece che sabato 11. Resta invece la data della finale del serale prevista per sabato 18 maggio. Non appena i fan della trasmissione hanno appresso le motivazioni di questa scelta hanno compreso e condiviso quanto deciso da Mediaset. Per Angelina Mango si tratta di un periodo straordinario, dopo il grande successo ottenuto con Amici, in seguito al trionfo sul palco dell'Ariston a Sanremo, ora si esibirà l'Eurovision Song Contest con la Hit, La Noia. Lorella Cuccarini per l'occasione ha deciso di farle gli auguri attraverso la pubblicazione di alcuni post sul suo profilo Instagram. Un pensiero davvero speciale che giunge dalla persona che più ha creduto in lei nel corso della sua permanenza nel talent show.